Dicono qui che noi dobbiamo sentire che la Emunah sia più forte almeno come dentro la ragione nostra. Io capisco questo, perché noi dobbiamo così sentire questo, deve essere una sensazione che questo è più forte di noi, sì. La domanda è in quale cli sentiamo questo? Nei crimi egoistici? Mi è chiaro di no. No, questo è già l'inizio dello schermo. L'inizio dello schermo che io già non voglio in questo momento, quando inizio a coprire, io non voglio più ricevere la scoperta dentro la mia consapevolezza, la ragione. L'opposto di questo è sentire che io appartengo al Bore, che il legame mio con lui è più importante per me, questo contatto, questa connessione con lui, più importante di tutti i riempimenti possibili. Non mi importa di questi riempimenti, mi importa a me essere legato a lui, questo è definito come la femmina che appartiene già al maschio.